3 punti percentuali in meno rispetto alla soglia critica del 30% dei ricoveri è il dato rilevato dall'Agenzia Nazionale per i Servizi Sanitari Regionali in Puglia. Nelle terapie intensiva infatti il 27% dei posti letto è occupato da pazienti covid contro il 28% della settimana scorsa. Nell'area medica che comprende i reparti di malattie infettive, pneumologia e medicina interna, l'occupazione rilevata è pari al 36%, 4 punti percentuali in meno rispetto al limite fissato dal Ministero della Salute. I dati dell'ultimo bollettino epidemiologico pugliese infatti riportano 1470 persone attualmente ricoverate e la diminuzione da un giorno all'altro è di circa 10 unità. Intanto continua a preoccupare la presenza dell'insorgenza della variante inglese nella nostra regione. Dall'ultima sorveglianza veloce messa a punto da regione e istituto superiore di sanità sono 245 i casi confermati in Puglia. Nella città di Fasano in provincia di Brindisi sono stati rilevati 60 dei 72 casi totali, 42 provengono dalla RSSA Santa Maria Regina Pacis e 18 da altri cittadini. Il primo cittadino, Francesco Zaccaria, per limitare il contagio ha emanato misure di contenimento ulteriori. Le scuole saranno tutte in DAD fino al 27 febbraio e con due ordinanze ha prescritto il divieto di stazionamento negli spazi pubblici del territorio. Ordinanza analoga emanata dal sindaco di Santeramo, Fabrizio Baldassarre, anche lì per la presenza di varianti inglesi conclamate. Dunque i sindaci corrono ai ripari ma anche dalla regione si sta pensando ad ulteriori interventi di contenimento. Ci trova favorevoli l'idea di rendere rossi i weekend, ha spiegato l'assessore regionale alla sanità Pierluigi Lopalco. La zona gialla, secondo l'epidemiologo, dopo qualche settimana fa impennare i casi. Dobbiamo solo trovare un modo, ha concluso, per far diminuire ai cittadini i contatti sociali e quindi le occasioni di contagio senza ammazzare l'economia.